alla tua incarnazione musicale. Lo so, va bene, grazie. Per quanto riguarda te, mi puoi dire l'ultima incarnazione in quale epoca sei vissuto? Perché ho delle... lo sai che ti penso spesso? Mentore, cui prodest? Io sono stato nella vostra dimensione non molto tempo fa. Gianmarco, le mie intuizioni potrebbero essere corrette? Mentore, ergo, mi devi aver individuato. Gianmarco, sei stato franco battiato? Mentore, tu suoni come me, però il mio vero sentire è legato alla mia prova terrena di quando ero insegnante di filosofia, ossia il mentore. Gianmarco, ho capito, questa tua presenza non si rifà alla tua incarnazione musicale, ma a quella filosofica. Mentore, bravo, la musica è il viatico dello spirito. Io come battiato spesso andavo contro le correnti dei cosiddetti benpensanti. Gianmarco, va bene, grazie, ho capito. Mentore, chi io sia stato non darebbe di più di... Gianmarco, di quello che già mi offri come insegnamento, non è un valore aggiunto. A maggior ragione tutto si rifà a quello che dico io, ovvero che ogni persona è potenziale fonte di saggezza. Mentore, ho di saggezza, ho di propria disgrazia. Gianmarco, certo, certo, grazie.